sale sul marciapiede mia nonna esce dal portone un ragazzo sale sul marciapiede con il motorino le dà un pugno sul petto mia nonna cade e lui le strappa la borsa portano mia nonna in ospedale nonna come stai eh stavo meglio prima ma nonna tu scherzi quel delinquente ti poteva uccidere il pugno ti ha tolto il respiro sì ma che cosa poteva fare come nonna ti poteva uccidere sì ma se quel ragazzo viene aurora dal mondo animale che cosa poteva fare di meno